Questo è un triciclo completamente elettrico, un ligier, e mi permette comunque di coprire tutta la zona ZHL con un'autonomia di 65 chilometri. Questo è un mezzo completamente stabile. Nel momento in cui io tolgo il freno di stazionamento non cade in nessuno dei lati e mettendo il freno resta fermo il motorino. Quindi c'è stabilità, sicurezza, e si può stare sempre tranquilli. Questo è il bauletto posteriore, può contenere quattro cassette di tipo A, o all'interno noi riponiamo i pacchi e sotto le cassette che sono più pesanti. All'interno del bauletto troviamo anche il cavo di ricarica, molto semplice da collegare e scollegare. Una volta completata la gita e rientrata in ufficio io collego semplicemente il cavo alla colonnina che si trova qui all'interno del garage. Caricarlo è molto semplice, si prende la spina e si collega alla colonnina. Una volta rientrati e così lo lasciamo caricare tutta la notte e il giorno seguente è pronto per essere riutilizzato.